Quali ingredienti fanno il minestrone perfetto? Nel suo famoso ricettario del 1891, Pellegrino Artusi elenca fagioli, cavolo, spinaci, vietola, cipolla, zucchina e sugo di pomodoro. Ma i tempi cambiano e oggi sulla nostra tavola arrivano tantissime varietà diverse di minestre di verdura. Perché ogni chef ha la sua ricetta. Minestroni, passati, creme e pappe a base di ortaggi, legumi e di altri prodotti della terra. La scelta oggi è più che mai ampia. E il bello è che se non abbiamo tempo di cucinare possiamo puntare sulle zuppe pronte, fresche come appena uscite dalla nostra peccola. Zuppe come queste. Sono le specialità della linea Buongiorno Freschezza, distribuite in esclusiva da Iper, la Grande I. Minestre fresche e sane, con qualcosa in più. Il contributo dell'Associazione Cuochi Torino. Questo prestigioso gruppo di chef, nato nel 1722, garantisce che le zuppe Buongiorno Freschezza contengono solo verdure di stagione, italiane e appena raccolte. Preparazione e ricette sono quelle tradizionali, con un pizzico di innovazione. Le nuove tecnologie, infatti, consentono di produrre zuppe freschissime prive di conservanti, addensanti, insaporitori o altri additivi, e di conservarle in frigo fino a 12 giorni. Ci sono anche le creme estive di verdure, buonissime e perfino fredde. Tu che minestra vuoi oggi? Grazie a tutti.